ma quello che dici nei video tu lo pensi lo pensi davvero oppure no dipende non mi fanno incazzare si nel senso che la cosa dei carabinieri ha meritato la morte di cercello rega appunto lo penso nel senso che questa gente ha cercato di uccidermi e io ho cercato di difendermi con i miei civili senza riuscirci perché mi ha riso in faccia tutti come ho detto varie volte e alla fine ho chiesto giustizia divina che fa un po ridere però alla fine è una strategia che abbiamo portato avanti da parecchi anni con i famosi vecchi amici e io la trovo molto giusta per tanti motivi poi vabbè lo sfogo appunto lo sfogo quando ti vanno girare le scatole io credo che serva per poter andare a dormire tranquilli perché di nuovo appunto non è una cosa che hai iniziato tu ma la iniziano loro tipo l'ultimo troll appunto lì c'è questo idiota che sta andando ancora a commentare i video su vimeo e poi va per cui sì insomma tutte le statistiche sui calabresi tutti i commenti sui calabresi tutto di nuovo sono un generalizzare a scopo più o meno ironico o di mandare il messaggio a gente che si è comportata male poi qualcuno dice che io me la prendo troppo che capitano tutte a me non è vero né l'uno né l'altro e che capitano io ho buona memoria non guardo la televisione perché riesco a creare contenuti più o meno divertenti e d'altro canto capitano tutti a me e no perché come diceva Luigi Tenko come ho detto poi a molti quando sono felice faccio altro quando mi fa girare le palle attacco la telecamera o il blog allora è giusto così insomma per cui ecco mi fa girare le palle attacco la telecamera o la telecamera o la telecamera o la telecamera i pray for my home